Ed ora, quest'anno abbiamo girato l'Italia a lungo e largo alla ricerca di tanti talenti, però ne abbiamo trovato uno in particolar modo, giovanissima, bella, brava, una cantautrice, già in rotazione in tutte le radio, in particolar modo proprio su Radio Kiss Kiss. Questa sera è con noi Claudia Jay! Claudia! Buonasera Claudia! Eccoti qua, però per questa sera hai scelto una canzone in italiano, Festival Italia e Musica. Sì, io sono una cantautrice e prettamente scrivo brani in inglese. La cantante che apprezzo molto, che è il mio idolo italiano, è Giorgia. Quindi stasera voglio farle onore con questo brano. Datticimenti in italiano, Claudia Jay! Grazie! Sì, oh no, eravamo solo angeli. E come mai siamo qui, senza ali, donne e uomini? Vivendo in questo mondo, prima o poi si cade giù. Fuoco e fiamme in paradiso, io rimoglio le mie ali e le voglio adesso. Fuoco e fiamme in questo letto, portami con te all'inferno, perché siamo fatti così. Sì, siamo qui, siamo qui, prigionieri di felicità. La verità è limpida, la natura umana è stupida. Fuoco e fiamme in paradiso, io rimoglio le mie ali e le voglio adesso. Fuoco e fiamme in questo letto, portami con te all'inferno, perché siamo fatti così. Il problema è che il mondo è come lo farai, come lo farò, ma non è il paradiso qui. Fuoco e fiamme in paradiso, io rimoglio le mie ali e le voglio adesso. Fuoco e fiamme in questo letto, portami con te all'inferno, perché siamo fatti così. Fuoco e fiamme in paradiso, io rimoglio le mie ali e le voglio adesso. Fuoco e fiamme in questo letto, portami con te all'inferno, perché siamo fatti così. Fuoco e fiamme in paradiso, io rimoglio le mie ali e le voglio adesso. Fuoco e fiamme in questo letto, portami con te all'inferno, perché siamo fatti proprio così. Fuoco e fiamme in paradiso, io rimoglio le mie ali e le voglio adesso. Fuoco e fiamme in questo letto, portami con te all'inferno, perché siamo fatti così.